Ciao tesori! Ciao ragazzi! Oggi sono in compagnia di Lollina perché stiamo per aprire un'altra JK Vi ricorderete qualche giorno fa abbiamo aperto Diva ma per mano di qualcuno che sarei io? Esatto! Se avete visto il video vi sarete resi conto che Alice ha fatto una delle sue sduplicazioni totali, mondiali, globali di tutte le LOL e grazie a te Alice e grazie a Eppi Satti zitta! Falso ragazze! Abbiamo da mostrarvi tutte le JK quindi continuerei l'unboxing con lei avevo proprio voglia di aprire Quimby ovviamente anche lei riprende una delle OMG della serie 1 vi annuncio che già stanno cominciando a preparare quelle delle serie successive quindi di queste JK ne vedremo parecchie cominciamo con l'unboxing la scatolina l'avete già vista l'altra volta c'è questa parte che si abbassa la cernierina che va giù e qui c'è tutta quanta la prima serie Diva che abbiamo già aperto MC Swag Quimby che stiamo per andare a aprire e poi ci vedremo in un prossimo video anche Neon QT rieccoci dovrei aver tolto tutti i pezzetti di orrido scotch vediamo a far scendere la nostra Quimby e farla tornare a essere una nanetta come le LOL a chi dici nanetta? no tranquilla tranquilla l'olena eccola qui c'è questa scatola così strana e pop up e andiamo a vederci la sua stanzetta quindi un attimo ragazze vi devo spostare e andiamo prima a tirar fuori qua così adesso dovremo girare e srotolare la sua cameretta ovviamente è Quimby quindi c'è l'ape di mezzo ma ovviamente anche oro e diamanti per tutti quanti oh cosa noto qui qui c'è una cosa che piace tanto a qualcuno a Lara qualcuno mi ha chiamata e ti pare che arriva sì guarda guarda che cosa c'è qui dentro c'è una pellicola vuoi staccarla? questo pezzo è il mio preferito ok 3, 2, 1 ovviamente dopo aver tolto la pellicola questo diventa uno specchio a tutti gli effetti vedete l'olena quanto si vede bene e anche il mio telefono che si vede di qua ok passiamo a tutta invece la parte fashion quindi i vestiti le scarpe e gli accessori passiamo alla bambolina sembra che è una pompetta di quelle di canotti vero quella del mare esatto se uno fa apre qua e poi abbassa la lol parte verso l'alto? non credo altre immagini allora tiriamo su togliamo prima questo punto di domanda e oh tu che bella che carina comunque le jk sono veramente carine non so hanno quella questa credo sia la mia preferita innocenza delle lol con un tocco in più dei vestitini tessili cioè ragazzi i vestitini di stoffa sulle lol così piccole sono favolosi veramente i capelli mi sembrano pazzeschi nel senso che non sono il tipico capello delle airgold ma sono tutti quanti luccicosi e dorati ti liberiamo dalla scatola che così mi sembri un po' una scatolina bambolina allora lo scotch via via scotch meraviglio abbiamo liberato la nostra bambolina guardate anche la a parte le calze tutte dorate molto belline c'è del glitter un po' dappertutto ha una mutandina disegnata anche sotto il slip di cotto di stoffa il trucco è molto carino i capelli sono morbidissimi ma è bellissimo è bellissimo il colore perché non sono di lame però sono lucenti come se fossero laminati pazzesco questo è il suo piedistallino si monta molto semplicemente mettendo questo zepetto qui poi si aggancia a questo e finalmente abbiamo uno stand che va bene anche per le lol piccoline nel quale si può appunto mettere la nostra lol o per il collo o per la pancia dove decidete voi in modo che possa stare in piedi ovviamente questa tipologia di lol è più da collezione però se uno ci volesse giocare insomma diciamo che le lol sono tutte per giocare ma il fatto che abbiano lo stand accontenta anche i collezionisti e le persone grandi appassionate di giocattoli e ce ne sono veramente tantissimi passiamo alle scatoline io comincerei da queste e poi cerchiamo le bustine ok ah mi è spuntata questa che questa la dovete bruciare esatto questa è l'unica cosa che la dovete buttare dal balcone esatto non la usate la tenete la mettete nella scatolina e ve la dimenticate per sempre perché onestamente come i capelli di Diva che sono tutti affusillati in questo modo anche quelli di Quimby onestamente avrei un po' timore a pettinarli pure con quelli di Neon e Swag io le lascierei così poi decidete voi sapete che mi piace tanto fare le pettinature ma in questo caso mi tratterrei lasciamoli così perché sono esatto andiamo con le scatoline carta e qui abbiamo il pezzo forte cioè quello che diciamo caratterizza le scarpe dolcissime tranquillissime delicatissime da Cicamara esatto ormai Lara è partita con questa cosa sì questi hanno anche il tacco definito cioè quelle di Diva hanno la zeppa queste hanno questo mega tacconissimissimissimo che le rialza quindi loro hanno queste scarpe trampolone via la prima scatolina andiamo con la seconda mi raccomando noi abbiamo imparato con l'esperienza che bisogna aprire molto bene queste cartine perché altrimenti vi perdete i pezzi quindi srotolate molto bene fino alla fine in maniera rapidissima no in questo caso hanno messo tutto insieme forse hanno capito anche loro hanno detto no guarda queste se devi aprire Barbara e Lara fanno un macello se perdono i pezzi questa è la dotazione di Queen Bee allora vediamo occhiali da Cicamara molto da Cicamara bellissimi così un taglio tipo Celine con tutti i glitterini ma i glitter tra l'altro li hanno ulteriormente secondo me affinati sono veramente micro guardate sono veramente extra extra fini poi c'è una fascetta per i capelli no cintura no per i capelli però fortunatamente si apre dietro quindi dovrebbe essere emettibile meno male un tablet da Cicamara in cui lei parla con la OMG e con no qui c'è Queen Bee classica e qui c'è l'OMG e qua c'è quest'altro questa intercatenina è la cintura si fatta così a catena eh si fatta così a catena e l'adoro perfetto vestiamo Queen Bee con cosa? con questi infatti stai volevo vedere cosa? mi rispondevi inizierei da questa perché mi ispira ti ispira ovviamente il pattern è quello classico del logato Louis Vuitton molto Louis Vuitton adesso taglio qualcosa speriamo di no è con delle apine quindi è un Louis Vuitton con le apette Louis Vuitton e Gucci più o meno messi insieme sottilissimo perché ovviamente essendo molto piccole devono utilizzare delle stoffe estremamente leggere qui sopra c'è un tubino e qui sotto c'è la gonnellina sembra molto carino tiriamolo questa è di carta che c'è qua dentro il bibe sempre fatto con questa forma ma qui c'è scritto Queen è carinissima questa cosa che l'abbiano scritto in questo modo sembra ve lo metto a fuoco scritto col pennarello ti ricordi dove capita questa cosa? vero da Starbucks quando andate da Starbucks aiuto e ordinate una bevanda vi scrivono poi sul bicchiere per chi è perché i bicchieri sono tutti uguali per evitare di dare una cosa per un altro aspetta se non sbagli tipo a Starbucks sì cioè tipo c'è qualcosa e tipo ho scritto sbagliato sì poi scrivono quello che sentono quando sei all'estero dici che so Barbara ti scrivono però vabbè alla fine ti capisci insomma l'importante è quello terza bustina vado non taglio con le forbici vado a mano uh vedo del vinile chi ha la giacchettina tipo lucida la giacchettina tipo chicamato tutto chicamata ma che carina è aspetta che l'elastichino è difficilissimo da levare ok potevano metterle anche queste nella carta velina allora è un coprispalle è un giubbino ovviamente ragazzi sembra pvc più o meno è vero sì sembra pvc vinile ok vestiamola qui guardate che bello il velcrino e guardate che rimane sotto vedete c'è anche il sopra quindi tecnicamente se la spogliate questo costumino lo potete usare per un'altra roll e lei rimane comunque dorata ha anche una specie di braccialetto dorato qui al braccio ok io direi che questo va infilato credo da sotto proviamo credo ok a tubo vado sarà facile aspetta mi sa che è una gonna lo sai infatti probabilmente sì perché vedi là dove c'è la sì nel disegno le finisce qui quindi io gliela lascerei fino qua poi hanno le scarpone quelle giganti a cica mala quindi esatto l'impressione da vedere e adesso tentiamo la fortuna col toppino vediamo se con il giacchettino metto nei panni di quelle persone che dovranno cucire queste cose saranno veramente non difficili di più adesso quale devo staccare un braccio probabilmente per inserire la seconda manica ce la faccio? come glielo inserisco? aiuto ho paura di romperla ok vi devo spiegare una cosa che vista così con la testa e il volante sembra un po' brutale ma vi aiuterà a non sfasciare la vostra JK fate questo trucchetto togliete la testa tirate su entrambe le braccia in modo che la magliettina passa entri in tutte e due le braccia poi quando siete qui mandate dietro qui la testina girate le braccia e dovrebbe essere tutto molto più semplice e soprattutto più sicuro per la vostra bambolina si può fare ok ce l'ho fatta perché veramente messo con la testa dovevo mandarle il braccio talmente indietro che ho temuto che si staccasse invece la testa in un secondo si fa così e abbiamo fatto vestita mancano gli accessori nel frattempo Lara si è ricordata di una cosa di starbucks che mi stavi dicendo che tipo noi a singapore avevamo ordinato qualcosa a starbucks e al posto di là avevo scritto l'ora l'ora sì perché forse l'ora suona tipo l'ora ok questa fascetta si può anche lasciare aperta vedete io non l'ho richiusa si reagge benissimo quindi io non la chiuderò la cintura gliela metto ovvio ma rimane la lavanda ah rimane perfettamente perché forse il tessuto la trattiene il tablettino è questo gli occhialini se volete glieli mettete è carina adesso abbiamo due cicche male io non so quale votare tra più carina è la mia preferita ti piace quimby sì ma è veramente molto molto più bella della lol classica anche se la lol classica era molto carina però questa poi non so ragazzi hanno una faccina adorabile adorabile veramente sono carine basta basta fare queste lol così belle non ce la facciamo più ogni volta veramente io spero sempre che inizino a farle brutte invece sono sempre più carine guardiamo una cosa facciamo un piccolo raffronto un piccolo paragone guardate come sono cambiati nelle varie edizioni e nelle varie serie gli occhi cioè guardate come era la pupilla piccola rispetto a queste di adesso e ho preso l'olina per ultimo perché l'olina è ancora più evidente la serie 1 aveva la pupilla molto piccola l'iride cioè la parte colorata dell'occhio molto grande e aveva quest'occhio che sembrava col bordo sotto bianco mentre invece queste di adesso hanno comunque sia la pupilla gigante insomma sono più carine 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 e in pratica staresti dicendo che so brutta no lolina non lo direi mai tu sei la mia boh non lo so sei la cosa più carina che possa esistere nel mondo delle bambole quindi ti stai arrampicando sugli specchi quando è che usciranno i vestiti anche per me lolina non lo so io guarda spero spero che il signore MGA ci ascolti e che prepari dei vestitini solo vestitini per voi sarebbe fantastico tre immagini carino delle scatoline con degli outfit oh mamma mia che cosa bella sì sarebbe veramente bellissimo una nuova opportunità di fare shopping eh con la carta di panchino eh lo sapevo ero lì ad aspettare ragazzi abbiamo visto Diva abbiamo visto Quimby ma rimanete con noi se volete scoprire anche le altre due che rimangono di questa serie quindi se amate le lol o comunque sia vi piacciono i giocattoli vi piace la nostra compagnia o vi siamo simpatiche rimanete in questo canale dateci un like per premiare il nostro impegno e visto che ci siete iscrivetevi anche al canale perché così almeno vi sduplico grazie dai sduplicaci un pochettino così diventiamo 200.000 eh non manca poco eh mica ci vuole tanto eh e che ne so ce la faremo mai secondo te ma sì prima o poi ce la farete anche voi anche se siete un po' non so due poveracce piano piano grazie a noi potrei ce la farete grazie eh Alice sempre guarda delicata e carina pure con noi ok ci vediamo in un prossimo video un bacio a tutti quanti seguiteci su Instagram perché abbiamo lanciato un contest casca casca sarebbe eh segui Babbit su Instagram per capire non vi preoccupate se non avete Instagram perché presto lo scoprirete anche su YouTube ma se ci seguite su Instagram potreste partecipare e ci sono dei regali e non posso spoilerare altro va bene ciao ragazzi ciao un bacio a tutti quanti ciao ciao